Prosegue il piano di interventi per il ripristino di strade e marciapiedi a Taranto. Sono infatti in fase di completamento i primi tre lotti avviati a dicembre. I cantieri aperti al momento sono quelli di Via Umbria, Via Roma e Via Cacace a Talsano. Intanto è in fase di aggiudicazione un altro importante appalto che prevede altri tre lotti. Entro l'estate partiranno i lavori relativi alla riqualificazione di alcune strade ad alto flusso veicolare. L'importo complessivo stanziato è di circa 2 milioni e 300 mila euro, denaro proveniente dalle compensazioni ambientali dell'ENI. Saranno interessate arterie sia del centro cittadino che delle periferie. Il primo lotto comprende Via Principe a Medeo, Via Alto Adige, Viale Unicef e Corso Italia per un totale di 744 mila euro. Il secondo comprende Via Scoglio del Tonno, Corso Umberto, Viale Unità d'Italia a Talsano e Via San Domenico a Lama con un investimento di 733 mila euro. Infine Via Anfiteatro, Via Vizzarro a San Vito, Via Mediterraneo, zona d'Alzano Tramontone e Via del Lavoro al quartiere Paolo VI con lavori per 744 mila euro.